Per la Settimana Santa 2022 in programma il 9 e 10 aprile la Santa Messa delle Palme e della Passione del Signore. Monsignor Giuseppe Giuliano presiderà la Santa Eucaristia nei primi Vespri della Solennità alle 19 e 30 a Troia in Concattedrale il 9 aprile, mentre domenica 10 aprile con inizio alle 10 la processione delle Palme in San Domenico a Lucera e poi la celebrazione della Messa Pontificale in Cattedrale. Il 13 aprile, giorno del mercoledì Santo, ci sarà la celebrazione diocesana alle 18 con la processione introitale dal Palazzo Vescovile dove i sacerdoti assumeranno i paramenti. Inoltre il 14 aprile giovedì Santo il Vescovo celebrerà alle 19 la Santa Messa in Cena Domini nella Cattedrale di Lucera. Il 15 aprile, venerdì Santo, il Vescovo presiderà alle 18 la celebrazione della Passione del Signore nella Cattedrale a Lucera. Il 16 aprile, sabato Santo, Monsignor Vescovo guiderà la preghiera detta l'ora della madre alle 10 e 30 nella Concattedrale a Troia e poi alle 21 presiderà la Solenne Veglia Pasquale in Cattedrale a Lucera. Il 17 aprile, prima domenica di Pasqua, Monsignor Giuliano celebrerà alle 9 la Messa di Pasqua nella Chiesa del Monastero delle Clarisse a Biccari mentre si terrà il Solenne Pontificale alle 19 e 30 nella Concattedrale a Troia.